amici di gossip news ben ritrovati pare cantonel elia e pietro delle piane siano di nuovo molto vicini la bionda opinionista del gf vip ha messo di esser si riavvicinata al suo ex fidanzato ma per il momento non si tratterebbe di una storia sera seria scopriamo insieme tutti i dettagli non prima di avervi invitato a mettere un bel mi piacere di saldi al canale per ricevere tutti gli aggiornamenti pare non sia davvero finita tra antonella elia e pietro delle piane nonostante la rottura di qualche tempo fa i due continuano a vedersi è stata proprio l'opinionista del gf vip a rivelarlo a live non è la durso invitata dalla conduttrice per parlare della sua esperienza nelle vesti di braccio destro di alfonso signorini stando a quanto dichiarato da antonella tra lei e pietro non ci sarebbe amore ma solo una grande passione per il momento infatti la donna non ha assolutamente intenzione di tornare ad essere la fidanzata dell'attore eppure possiamo dire che di segnali positivi ce ne sono di recente pietro delle piane ha rilasciato un'intervista al magazine nuovo durante la quale ha rivelato che nonostante antonella continua a ribadire che non sono fidanzati lui avverte il suo trasporto e considera il suo atteggiamento una forma di vendetta pietro ha confessato di essere rimasto piacevolmente sorpreso nel sentire la sua ex fidanzata dire a live di essere ancora innamorata l'attore ha poi proseguito facendo una importante promessa ad antonella l'uomo infatti ha assicurato che farà il bravo e che sarà più signore e meno pirata perché dietro la sua faccia da bandito si nasconde un cuore romantico da quanto detto nell'intervista è chiaro che delle piane ha compreso quanto la showgirl abbia sofferto durante la loro esperienza a temptation island l'uomo infatti ha ammesso di essersi pentito degli errori commessi inoltre oltre alle bellissime dichiarazioni fatte al magazine si vocifera che l'attore non si sia mai arreso e abbia continuato sempre a corteggiare la sua ex compagna chissà quindi che tra un po' di tempo i due non decidano di riavvicinarsi per qualcosa di più serio proprio come ai vecchi tempi antonella e pietro si sono conosciuti e innamorati nel 2019 un vero e proprio colpo di fulmine che li ha fatti diventare inseparabili fino al fatidico temptation island che ha rovinato tutto infatti la partecipazione al reality estivo ha provocato non pochi problemi alla loro storia d'amore problemi che i due non sono riusciti a risolvere tanto da decidere di allontanarsi adesso però antonella e pietro hanno trovato un punto d'incontro seppure ancora più passionale che sentimentale e comunque un passo in avanti considerando che non molto tempo fa antonella era stata più che categorica verissimo la showgirl davanti a silvia tofanin aveva dichiarato con fermezza di avere capito che era ora di mettere un punto fermo alla sua relazione con pietro dopo averlo messo alla prova per l'ultima volta prova che tuttavia il compagno non ha superato durante l'intervista verissimo l'opinionista del gfv era sembrata profondamente provata ma soprattutto delusa il principale motivo della sua delusione era stato quanto detto da pietro durante appunto temptation island l'uomo aveva sparlato di lei con una delle tentatrici dandole della bambina combina guai e facendola passare per una donna dalla dubbia reputazione quella infatti era stata la famosa goccia del famoso vaso ma forse questi mesi hanno portato i due a ragionare non ci resta questo punto quindi che aspettare i prossimi sviluppi della love story siete curiosi di sapere come andrà a finire tra antonella e pietro fatemelo sapere qui sotto con un commento soprattutto voi che cosa auspicate che i due tornino insieme o che continuano così a diciamo a frequentarsi senza però mai l'ufficialità fatemelo sapere qui sotto con un commento leggermente il video canale cliccate la campagna per non perdere di tutti i ragionamenti ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao